Ciao Yashin, spiegaci le tue origini marocchine. Allora, io sono nato qua in Italia, però ho origini marocchina, perché i miei genitori sono nati in Marocco. Ho un frutello e una sorella che sono nati in Marocco. Ok, se tu dovessi arrivare a giocare in nazionale, te lo auguriamo, sceglieresti l'Italia o il Marocco? Io da quando ero piccolino mi sognavo di giocare in nazionale marocchina. E qual è il tuo giocatore preferito? Il mio giocatore preferito in Marocco è Bufal. Ok, dacci un pronostico per la finale contro la Croazia. Allora, secondo me spero per il Marocco che vinca, perché ha fatto un mondiale straordinario, spero che finisca al minuto 2-0. Ok, perfetto. Ciao Yashin, grazie. Ciao.